Ignazio Moser e il brutto gesto verso Jeremias, il pubblico disapprova Grande fratello VIP, Ignazio e Jeremias a rischio, il gesto di Moser non piace al pubblico. Nuovo scivolone di Ignazio Moser al grande fratello VIP. Il pubblico non ha particolarmente gradito il comportamento del ciclista e i danni di Jeremias Rodriguez. Davanti alla scelta di Giulia Delellis di eliminare uno dei due, il fratello di Belen ha chiesto più volte alla fidanzata di Andrea Damante di abbandonare il gioco per non interrompere la storia tra Ignazio e Cecilia. Diverso l'atteggiamento di Moser che, invece, non ha battuto ciglio e non ha minimamente pregato l'ex corteggiatrici di uomini e donne. L'atteggiamento, a detta di molti, eccessivamente egoista e vile. Tanto che in molti su Twitter si sono scagliati contro il figlio di Francesco Moser. . Ignazio Moser nella bufera, i tvei contro il ciclista. Per oggi Jeremias le fa appunto per uscire dalla casa le uscite. . Ignazio invece? Testa china ha fatto notare qualcuno. . Mentre qualcun altro tira in ballo il rapporto tra Moser e Cecilia Rodriguez, questo dimostra quanto Ignazio tenga Cecilia, visto che sa quanto Cecilia sia legata a Jeremias. . . . . . E poi ancora, Ignazio durante la scelta su chi mandare al televoto zitto, muto, mentre Jeremias si offriva volontario. . . Che uomo senza pa' . . Comunque mentre Jeremias diceva a Giulia di eliminare lui, Ignazio stava zitto. . . . . . . L'avrei eliminato solo per quello, Geremias ha un carattere di me.A, però almeno ha avuto la cosa di dire fai uscire me. Ignazio egoista fino all'ultimo. Geremias Rodriguez salvo, l'abbraccio con Ignazio Moser. Se il pubblico non ha potuto fare a meno di criticare Moser, diversa è stata la reazione di Geremias. Una volta rientrato in casa perché salvo grazie al televoto, il Rodriguez ha abbracciato l'amico e probabile futuro cognato. Il fratello di Belen è stato ben felice di poter continuare il gioco all'interno del reality show. Il fratello di Belen è stato benissimo.